E' sempre più inaccettabile restare per anni succubi delle decisioni unilaterali assunte da chi amministra, con al massimo la possibilità di costruire un frustrante comitato. Se è così, meglio non presentarsi neppure alla manfrina elettorale. La rappresentanza democratica sta andando in crisi profonda. Con queste premesse, l'ex assessore provinciale alla cultura Davide Rossi avanza la sua proposta in vista delle prossime elezioni amministrative, evidenziando come la tecnologia possa consentire i cittadini di interagire con gli amministratori pubblici in corso di mandato, diventando così codecisori e non passivi di decisioni. Ormai è sotto gli occhi di tutti che la cosiddetta democrazia rappresentativa è in crisi. Le persone non vanno più a votare, specialmente a livello locale. Le ultime due elezioni, Lombardia e Lazio, dimostrano che meno del 40% si è recato le urne. Perché il cittadino è stanco di sentirsi irrilevante, di concedere una delega in bianco per 5 anni e poi rimanere in balia delle decisioni di amministratori, che tra l'altro spesso sono anche mediocri, privi di qualità particolari. Oggi invece i cittadini hanno le competenze, la maggior parte di loro, per potersi esprimere sui progetti che riguardano la loro comunità. Un progetto importante di viabilità, un progetto di lavori pubblici, di servizi sociali. Ci sono le competenze per poterlo fare. E questo già lo si fa in altre parti del mondo e funziona molto bene. Ad esempio a Singapore e in Svizzera, ha precisato Rossi, e gli strumenti, aggiunto, ci sono, da referendum consultivo già previsto dallo Statuto del Comune di Fano, ad iniziative di consultazione pubblica periodica, anche grazie all'utilizzo di mezzi tecnologici come piattaforme per le petizioni online. La proposta, che spero che qualche forza politica già esistente o nuova, che possa costituirsi anche attorno a queste idee, possa recepire, è quello di far sì che la nostra democrazia a livello locale, a livello comunale, diventi una vera democrazia, dove i cittadini vengono chiamati ad esprimersi in maniera molto frequente durante i cinque anni di mandato dell'amministrazione e dire se un progetto ha senso, se ha senso investire lì o se ci sono delle alternative migliori. Durante il suo mandato provinciale aveva già provato a sperimentare questo progetto? Sì, sì, è un esperimento. Praticamente una parte del bilancio non era più a disposizione delle mie decisioni, ma erano i cittadini, le associazioni che presentavano progetti e poi votavano. I cittadini attraverso una piattaforma creata appositamente, informatica, oppure attraverso il coupon di un quotidiano locale, si esprimevano su quali progetti erano meritevoli secondo loro di finanziamento. E ci siamo attenuti rigorosamente alla votazione. Quindi non ho deciso più io come assessore, hanno deciso i cittadini. Ha funzionato, ha coinvolto migliaia di persone, ha messo in circolo energie molto potenti e quindi questo vuol dire che si può fare. Lei è pronto a scendere in campo per le prossime amministrative o quantomeno a dare il suo contributo verso questo progetto? Un contributo verso gruppi politici, gruppi di cittadini che si possono formare anche ex novo, perché questa io penso che sia l'unica risposta alla crisi della politica, alla crisi della democrazia. Fano da questo punto di vista potrebbe diventare un laboratorio interessantissimo all'avanguardia. I cittadini devono sentirsi coinvolti nelle decisioni prese.